E parliamo anche di pallavolo perché oggi è stato il giorno della presentazione del ritorno a Modena di Nemanja Petric, uno degli eroi del triplete torna in giallo-blu dopo tre anni trascorsi tra Turchia, Russia e nell'ultima stagione Milano. L'ha intervistato per noi Filippo Marelli. Nema, verrebbe da dire bentornato a casa. Mi viene da dire anche grazie perché veramente mi sento a casa, qui a Modena l'ho sempre detto, lo ripeto perché veramente ci sentiamo a casa e sono molto contento di essere di nuovo qui a Modena. Onestamente ti saresti aspettato di tornare a vestire il giallo-blu? Guarda, non so risponderti, sicuramente un desiderio dentro di me c'è sempre stato, di un giorno ritornare, quello è vero. Siamo stati sempre in contatto ma questa volta è anche pesato molto di più la voglia di Andrea Gianni che mi ha voluto qui. Oggi ti senti di poter dire vorrei fare il capitano di questa squadra, qual è il tuo pensiero? Non ne abbiamo parlato, sarà loro decidere ma io penso che sia giusto che sarà Michael Christensen perché dopo il percorso che ha fatto negli ultimi anni è rimasto un protagonista anche in campo, è un giocatore di valore assoluto. Io penso che per questa squadra sarebbe buono anche per lui, per la squadra che sia lui. Poi decideranno loro e siamo sempre qui a aiutare chiunque sia capitano. Quest'anno il campionato sarà più equilibrato, ci saranno un paio di più squadre molto competitive e noi rimaniamo tra quelle molto competitive e penso che dobbiamo averci quello nel mente perché Modena è la storia di Palavolo e dobbiamo sentirci capaci di portare quello nelle nostre spalle perché Modena ovviamente è una realtà che è rimasta negli anni e anni unica quindi penso che Modena continuerà il suo percorso per lottare per le belle soddisfazioni. Grazie. Grazie. Grazie.